Musica Addio alla pavimentazione di Sestata sotto il bastione Sangallo di Fano. Ieri sera ha inaugurato il nuovo camminamento insieme al nuovo impianto di illuminazione a LED. A Fano ha realizzato un nuovo bosco urbano formato da 5.000 piante lungo l'area verde dell'ex aeroporto, un'iniziativa resa possibile grazie al sostegno di tre aziende del territorio. Più accessibile e tecnologico, presentato a Fano il progetto del nuovo museo, previsti un nuovo edificio tra il palazzo Malatestiano e il palazzo dei Cuppis e la riapertura dell'arco della regina chiuso quasi 100 anni fa. In una gastronomia, scuole di ballo, grandi orchestre e animazione per bambini. A Tre Ponti di Fano prende il via la festa della Cresciamatta e Oca in porchetta. Stasera l'anteprima con la cena di beneficenza organizzata dall'Africa Chiana. Stasera su Fano TV torna il programma in salute. Ospiti la dottoressa Emilia e la professoressa Barbieri per parlare del progetto MOVIS, un percorso post-ospedaliero dedicato alle donne in cura per il tumore al segno. Benvenuti ad Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Esaltata la bellezza del bastione Sangallo e messo in sicurezza il marciapiede adiacente. Taglio del nastro ieri sera per la conclusione dei lavori della nuova pavimentazione e l'accensione delle luci sceniche a LED. Vediamo allora tutte le immagini nel prossimo servizio. Un progetto di riqualificazione complessivo che va nella direzione di promuovere e valorizzare i beni monumentali e storici della città. Alle 21 e 30 del 19 luglio taglio del nastro alla presenza del comune, delle ditte incaricate dei lavori insieme ad alcuni cittadini, della nuova pavimentazione dell'impianto di illuminazione a LED che costeggia la parte bassa del bastione Sangallo. L'intervento si è reso necessario a causa del degrado diffuso del manto pedonale precedente dovuto per lo più a cedimenti del fondo che hanno determinato irregolarità del piano e avvallamenti. Per quanto riguarda la pavimentazione ricordiamo che c'era una pavimentazione in cocciopesto ammalorata che si era ammalorata purtroppo velocemente. Oggi è stata sostituita con della pavimentazione in ghiaia lavata e come vedete anche tutta la cinta muraria del bene è stata illuminata con un'illuminazione scenografica che scende su tutta la facciata e la valorizza al meglio. Oggi naturalmente tutto quello che è un po' l'effetto scenografico non viene valorizzato al meglio perché dall'altra parte della strada abbiamo dei lampioni a luce rossa che inficiano un po' la luminosità. Ma da settembre quando verrà appunto fatto il relamping all'interno di tutta la rete luminosa sicuramente riusciremo a vedere quello che effettivamente sarà tutta la dinamica di questo effetto scenografico che è stato scelto per questo tipo di impianto. E il 31 di luglio alle ore 21 e un quarto vi aspettiamo proprio all'interno di questo bene perché saremo pronti a presentarvi il progetto di rifunzionalizzazione di questo bene proprio perché andremo a presentare alla città quello che i nostri tecnici hanno pensato per far sì che il progetto sia accessibile in tutte le sue parti. Inoltre, ha aggiunto Brunori, verranno inseriti in un secondo momento dei nuovi faretti che andranno ad illuminare la cuspide della fortificazione rivolta ad est, ovvero quella verso la stazione. Costo totale dell'operazione 220 mila euro, già visibili da ieri sera invece i giochi di luce che andranno a caratterizzare l'intero bastione. Abbiamo ridato dignità a questo spazio da quando sono stato eletto tante lamentele richiedevano una riqualificazione di questo percorso pedonale che è anche l'ingresso verso la stazione. E devo dire che con questo bel intervento a cui abbiamo aggiunto anche l'illuminazione per dare valore rendono ovviamente questo scorcio di città più bello. Sono tutti interventi che vanno ad abbellire la nostra città. Il decoro è un aspetto importante, usufruire anche gli spazi vicino alle strade è un aspetto importante. E poi lasciatemi dire, all'esterno delle mura, agli ingressi della città diventano anche un biglietto da visita. Fano deve diventare sempre più bella per chi la vive ma anche per chi la viene a visitare. Nell'area dell'ex aeroporto di Fano, dove piano piano sta nascendo il nuovo parco urbano, questa mattina è stato presentato il bosco urbano con la piantumazione di oltre 5.000 piantine formate dal 70% da alberi autotoni e dal 30% da arbusti. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Fano e Arbolia, che è un'associazione che si occupa appunto di creare dei boschi urbani in Italia. Questo progetto nasce da questa collaborazione ed è stato finanziato da tre partner, Tecfem, Romana Costruzioni e Sicim, che sono società del settore elengas, Tecfem ha sede qui a Fano, che hanno finanziato questo progetto che prevede in fondo la piantumazione di 5.000 piante nel parco urbano del Comune di Fano, Parco Polverari, piante che andranno ad arricchire appunto quest'area di città che è già interessata da tanti lavori come la realizzazione di una pista ciclabile nuova, la realizzazione di un'area giochi nuova, il recupero della vecchia casa del custode del parco. Un progetto importante quindi che si inserisce in un contesto che sta evolvendo. Dopo che qualche anno fa abbiamo acquisito quest'area finalmente al bene comune, ora la stiamo valorizzando in maniera tale che possa essere appunto frequentata da tantissime persone e dove l'ambiente possa essere anche salvaguardato, perché la collaborazione che stiamo mettendo in piedi anche con l'associazione ambientalista di Fano, che inizialmente avevano anche criticato il progetto, ma abbiamo trovato una soluzione, un impegno affinché si possa contemperare nello stesso progetto la necessità di vivere il parco, la necessità di difendere la natura e appunto le specie animali. Questo parco ovviamente anche per esigenze di manutenzione viene gestito in maniera abbastanza regolare, ma contiene un 70% di alberi e un 30% di arbusti. Tra gli alberi il bagolaro, la roverella, l'acero campestre sono diciamo le essenze principali, poi ci sono anche gli arbusti ed è un impianto diciamo di bosco gestito per i prossimi due anni dalla società che l'ha realizzato, con un impianto di appunto anche irrigazione automatico in maniera tale che ci possa essere l'attecchimento delle essenze e l'importo è stato considerevole tenuto conto non tanto del lavoro, ma di quanto, essendo questa un'area ex militare, si è dovuto procedere anche allo sminamento e alla bonifica degli ordini bellici che ovviamente in questo caso era necessario per poter piantare anche le piante. È stata ripulita dall'associazione Regresso Arti, su richiesta dell'assessorato al decoro del comune di Fano, la statua La Tempesta imbrattata dai vandali nei giorni scorsi. Il monumento realizzato da Getulio Roberti e situato sul molo di Ponente a Lido ricorda la tragedia che ha colpito la città di Fano l'8 giugno del 1964 quando in un terribile naufragio morirono diversi marinai attesi in vano dalle loro mogli con i figli in braccio. Cambia molto il Museo Civico di Fano, secondo il nuovo progetto che è stato presentato dall'amministrazione comunale alla Corte Malatestiana. In discussione diversi cambiamenti, tra cui il nuovo corpo di fabbrica che collegherà il Palazzo Malatestiano a Palazzo dei Cuppis. Massimo Foghetti. Una nuova visione del museo. Ecco, l'intento culturale soprattutto dell'operazione. L'intento culturale è quello di trovare spazio per la cultura, spazio per l'esposizione, spazio per l'esposizione di ciò che abbiamo di antico che fa parte della nostra storia, che descrive il nostro passato dai romani fino a passare per il Medioevo, il Rinascimento, fino al Seicento e così via. Ma spazio anche per creare una cultura nuova, per ospitare il contemporaneo, l'arte contemporanea, l'arte moderna e anche per dare modo ai ragazzi e ai meno ragazzi di creare nuova arte e di avere laboratori che permettano di trovare la loro vocazione di socializzare anche. Gli spazi della cultura sono questi, sono spazi per vivere che fanno crescere la città esattamente come ha fatto la Corte anni fa. Lei è assessore ottimista per la realizzazione di questo progetto. Ecco, realmente quali sono le prospettive poi di esecuzione? Io non ho la sfera di cristallo, per cui non posso dire se scorreremo di graduatoria per il bando in cui ci siamo classificati molto bene, 22esimi nel Dord Italia e 31esimi in tutta la nazione. Non so dire se usciranno altri bandi, però tutti gli elementi ci fanno pensare che le probabilità siano alte e diciamo che dai progetti sull'efficientamento e non solo, che in questi anni abbiamo portato avanti, a volte ci abbiamo preso. Architetto Zampa, un progetto fortemente innovativo per la Corte Amalatestiana e per il Museo Civico di Fano. Ecco, quali sono le soluzioni innovative più evidenti, più, diciamo così, impattanti che ha ideato? Ora abbiamo necessità di far sì che questo museo diventi un punto di riferimento all'interno della città nelle sue funzioni priori di tutto. Per fare questo abbiamo bisogno di rendere il Palazzo Malatesta e il nuovo ampliamento del Palazzo dei Cupis accessibile a tutti. Per fare questo abbiamo pensato a un nuovo corpo di fabbrica che ha linguaggi contemporanei ma che riprende le forme che nei vari interventi che sono stati fatti negli ultimi ormai 600 anni e sono andati a intervenire in maniera gentile, in qualche modo generosa, verso il contesto ma rispettando quello che era il linguaggio appunto contemporaneo. Così facciamo noi, cercando di leggere quali sono i bisogni e restituire quello che è un linguaggio contemporaneo appunto. Una nuova innovazione è stata quella invece di introdurre il nuovo verde nell'assetto della Corte. Crediamo che sia fondamentale oggi introdurre una sostenibilità ambientale reale con l'introduzione del verde anche all'interno del tessuto urbano. Ora questa cosa viene fatta con il nuovo giardino pensile sopra il nuovo corpo di fabbrica che diventa sia a livello simbolico sia a livello di restituzione rispetto alle isole di calore una nuova linea del skyline fanese, non fatto da Grattacieli appunto perché non è la vocazione della città, ma fatto da una richiesta della contemporaneità. Un'altra innovazione introdotta è quella della moltiplicazione degli accessi. Altri due accessi, di cui uno più importante che è la riapertura dell'Arco della Regina costruita nel 1655 e chiuso poi nel 1929. Ecco, noi lo riapriamo per far sì che si possa vivere quotidianamente. Ed infine, a parte queste innovazioni veramente strutturali di tutto il complesso, qual è il valore culturale che darà al nuovo museo il progetto stesso? Abbiamo pensato alla rigenerazione di questo spazio come un'infrastruttura capace di accogliere le istanze della cittadinanza, degli attori culturali e di rendere il fruitore, il cittadino, il turista partecipe delle attività che si possono poi realizzare all'interno, al punto che le funzioni afferiscono più all'idea forse di un museo contemporaneo rispetto a quella di un museo classico attraverso appunto la partecipazione attiva. A meno di un anno dalle elezioni amministrative a Fano, l'ex direttore del comune Giuseppe De Leo, appoggiato da alcune liste civiche, ha riunito la sua squadra Bellocchi. Nell'incontro, si legge in una nota, è emersa la volontà di partecipare ad un progetto politico per dare a Fano un governo credibile, autorevole e competente che riporti la città alla sua centralità con i vari livelli istituzionali. Inoltre sono emersi giudizi pesantemente critici nei confronti dell'attuale amministrazione, in particolare una significativa arroganza su questioni impattanti sulla comunità, nonché la paralizzante conflittualità interna ai partiti di maggioranza che ha condizionato ed impedito scelte strategiche per il futuro di Fano. Tutti i partecipanti, prosegue la nota, hanno incoraggiato proseguire la strada intrapresa ed il 24 settembre prossimo al Cinema Masetti verrà organizzata una convention per esporre progetti e proposte in vista delle elezioni 2024. L'obiettivo è di guidare con la necessaria discontinuità un profondo cambiamento nella guida della città. Dopo la nomina del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fede e di quello provinciale Marta Ruggeri, ieri è stato presentato il nuovo coordinatore del gruppo fanese. Si tratta di Andrea Serafini, commercialista e quindi esperto in materia di bilancio, ma anche competente in altri settori della pubblica amministrazione. Il Movimento 5 Stelle sulla spinta del nostro nuovo presidente Giuseppe Conte si sta ristrutturando e riorganizzando nei territori in maniera più simile rispetto a quella di un partito tradizionale. Quindi dopo la nomina da parte del presidente Conte e dei coordinatori regionali e provinciali c'è stata adesso l'elezione da parte del gruppo territoriale di Fano appena istituitosi del proprio referente e il gruppo all'unanimità ha scelto Andrea Serafini che è un attivista storico del Movimento 5 Stelle, è una persona di comprovata capacità e fiducia. Che funzioni ha il coordinatore locale? Serve per aiutare i consiglieri comunali a organizzare un'azione politica, per coinvolgere i cittadini, per studiare temi che interessano la città, per raccogliere le istanze nei quartieri e nel territorio, da trasformare in proposte politiche sia in Consiglio Comunale che in Regione e anche eventualmente a livello nazionale attraverso la nostra organizzazione di movimento. Ecco, il gruppo di sostegno locale è composto da circa una quarantina di elementi, quello che poi sostiene il gruppo consigliare, tutti coloro che sono in primo piano, ma ognuno poi si occupa di diversi settori, ecco appunto. Quali sono i settori di competenza? Allora, noi stiamo organizzando dei gruppi di lavoro e ci sarà un gruppo di lavoro che si occuperà di sanità e di servizi sociali che già sta lavorando su quelli che saranno gli aspetti che riguarderanno il Comune di Fano del piano socio-sanitario regionale e il suo impatto nel territorio e nell'ospedale di Fano. Poi si sta valutando la riforma dei servizi sociali che ha proposto l'assessore Tinti, su cui siamo abbastanza critici come movimento. urbanistica e viabilità, ci sarà un gruppo che si occuperà di servizi locali come acqua e rifiuti, ci sarà un gruppo che si occuperà di attività produttive di bilancio e un altro che si occuperà di turismo e cultura. L'ultima mozione approvata in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico è significativa dal punto di vista politico in vista delle prossime elezioni amministrative? Noi come noto stiamo cercando di costruire un progetto politico comune con tutte le forze politiche del campo progressista. Quello che riteniamo sia necessario costruire un progetto politico comune che abbia anche dei contenuti di novità e di discontinuità dove noi possiamo dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto in Consiglio Comunale e che ci viene riconosciuto dalla città. In occasione del 158esimo anniversario della nascita delle Capitanerie di Porto il direttore marittimo delle Marche Donato De Carolis ed il comandante del compartimento marittimo di Pesaro Claudia Di Lucca si sono recati al Monumento ai Caduti del Mare dove alla presenza di una rappresentanza del personale dell'Associazione Marinai d'Italia sezioni di Pesaro, Fano e Gabice Mare hanno proceduto alla deposizione di una corona d'alloro in memoria di chi ha perso la vita in mare. Successivamente De Carolis ha raggiunto la sede della Guardia Costiera di Pesaro dove ha incontrato in assemblea tutto il personale del compartimento marittimo. Ed ora apriamo la pagina degli eventi da domani fino a domenica torna alla cooperativa Tre Ponti di Fano la festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta sentiamo ora tutti i dettagli nel servizio di Simona Zonghetti che ha intervistato il presidente Gino Bartolucci. Tavolate pronte, palco montato e volontari a lavoro per l'evento di quartiere più antico della città da domani, venerdì 21 luglio e fino a domenica 23 la cooperativa Tre Ponti di Fano torna ad ospitare la festa della Cresciamatta e Oca in Porchetta buon cibo, musica e divertimento la faranno da padrona per tre giornate in grado di attrarre migliaia di fanesi e turisti e di occupare tutti i 7.000 metri quadrati a disposizione. Presidente, qua fervono i preparativi a quale edizione siamo arrivati? Siamo lontani, 38esima edizione a causa Covid siccome quest'anno la cooperativa festeggia i 40 anni di attività al 30 ottobre perciò capisci che anche le feste erano 40 però due anni ci siamo fermati col Covid perciò siamo alla 38esima edizione della festa della Cresciamatta oggi anche Oca in Porchetta. Si parte questa sera con anche una cena di beneficenza dell'Africa Chiamo Sì, stasera abbiamo una cena di beneficenza dell'Africa Chiamo però la festa comincia domani tre giorni importanti con tre belle orchestre tre gruppi ballerini importanti perciò diciamo tanto da divertirsi e abbiamo pensato dall'anno scorso anche l'animazione per bambini abbiamo il nostro campo chiuso così i bambini e le famiglie possono lasciare i loro bimbi all'agenzia di animazione che naturalmente opera tutte e tre le serate dalle 7 a mezzanotte. E' confermato anche il servizio d'asporto? Sì, senz'altro naturalmente perché l'oca è un prodotto particolare che cucinano in pochi perciò qualcuno se vuole mangiare l'oca e la vuole portare a casa è fattibile durante il giorno noi siamo qua dalle 10 a mezzogiorno se qualcuno oppure la sera stessa naturalmente quando aprono gli stand dalle 6 e mezza qualcuno se vuole venire e portarsi a casa un po' d'oca da mangiarsela lo può fare. Mi conferma che ci sono tanti affezionati a questa manifestazione che vengono tutti gli anni ormai da tanto tempo Sì, tanta gente ma però vedi il problema dove è che anche grazie alla pubblicità delle tv naturalmente ieri ho avuto due o tre chiamate da lontano da Porto Recanati, da Civitanova perciò naturalmente è un prodotto che tira poi i messaggi pubblicitari, le tv locali naturalmente portano la gente ma le marche naturalmente il grosso è dalle marche naturalmente però tanta gente da Pedro tanta gente da Urbino e quando sento dire Civitanova Recanati per noi sono un po' fuori dal nostro diciamo iterim della provincia però va bene vuol dire che le orchestre che abbiamo sono importanti e il cibo che proponiamo è un cibo che interessa una gran parte di gente Un'ultima battuta riguarda i volontari tanti al lavoro in questi giorni I miei volontari li ho belli cotti perché naturalmente veniamo da due settimane purtroppo insieme alla Proloquo abbiamo gestito la fanno dei ceseri perciò i miei sotto pressione là e questa settimana sotto pressione di qua naturalmente gli anni passano e i volontari soffrono se vogliamo però c'è tanto entusiasmo poi per il nostro quartiere la nostra cresciamata non ce n'è per nessuno naturalmente tutti gli altri vengono dopo Si è svolto oggi il tavolo tecnico per l'organizzazione delle celebrazioni in occasione degli 800 anni del santuario del Beato Sante a Monbaroccio a margine della riunione abbiamo intervistato il cavaliere Damiano Bartocetti commissario delle iniziative Devo innanzitutto ringraziare il signor questore il signor prefetto e tutte le forze in campo carabinieri 118 guardia di finanza e vigili del fuoco con un ottimo risultato e anche la polizia locale di Pesola comandante Muzzini abbiamo stabilito tutto quello che riguarda la viabilità tutto quello che riguarda tutta l'attività anche antincendio visto che siamo all'interno di un bosco e prevederemo migliaia di persone che giungeranno al santuario del Beato Sante e ci hanno fatti complimenti abbiamo fatto un buon piano di sicurezza da questa sera partiamo con la benedizione dei mezzi agricoli poi sabato e domenica dall'alba al tramonto con il concerto alle 5.30 del mattino per finire con un altro concerto alla sera e la domenica oltre a tutto all'artigianato le bellezze che si potranno ammirare anche storico-architettoniche di questo complesso santuariale che risale al 1223 quindi festeggiamo 800 anni e tra l'altro quest'anno festeggiamo anche un evento in più che poi vi svelerò domenica durante la Santa Messa che si celebrerà alle 11 alla presenza dell'Arcivescovo ecco ci saranno molte forze dell'ordine in campo ci saranno anche diciamo la possibilità di ammirare le forze dell'ordine che saranno in servizio presso il nostro santuario quindi vi auguriamo a tutti una felice serena giornata e soprattutto vi aspettiamo al Santuario del Beato Sante seguiteci sulla pagina Facebook Santuario Beato Sante e adesso vi presentiamo lo spettacolo teatrale dell'illustratore Simone Pinchieri in arte Nigraz e l'attrice accrobata Clio Gaudenzi in scena venerdì 21 luglio alla Corte Malatestiana il servizio è di Esther Musco è stata presentata alla Corte Malatestiana la performance teatrale Il mio nome nella luna che andrà in scena venerdì 21 luglio proprio in questo luogo la scelta della Corte condivisa con l'assessore alla cultura Cora Fattori è un ritorno alle origini riappropriarsi di un luogo che era palcoscenico estivo di eventi concerti e manifestazioni culturali del teatro della fortuna il tema caratterizzante della sesta edizione di impronte femminili di quest'anno è l'identità quest'anno la rassegna si concentra sul tema dell'identità l'anno scorso ci siamo concentrate su quello del multiculturalismo quest'anno abbiamo ampliato lo sguardo cercando di capire le varie sfaccettature di che cosa significa identificarsi con qualcosa con qualcuno con un'idea con una ideologia e quali sono le caratteristiche che ci identificano e che formano il nostro carattere e la nostra caratterizzazione sia interiore che esteriore e quest'anno lo facciamo utilizzando tanti linguaggi come l'appuntamento di venerdì lo dimostra il mio nome nella luna è una performance teatrale dedicata alla luna da sempre cantata divinizzata e contemplata dalla notte dei tempi fonte di ispirazione di tanti artisti poeti scrittori e scenografi e la novità di quest'anno condivisa con Manuela Orciari componente del comitato scientifico di impronte femminili e l'incarico affidato all'illustratore Simone Pontieri in arte a Nigraz che rappresenterà l'universo femminile da un punto di vista un riflettore maschile un'identità lunare condivisa anche con l'attrice Clio Gaudenzi che trova ispirazione per questo spettacolo nell'opera di Pirandello Ciaula scopre la luna Simone sotto quale luna nasce questo progetto che presenterete venerdì? Sicuramente la luna di Artemide anche perché sarà la luna che ci accompagna durante lo spettacolo La scelta di questo tema? La scelta di questo tema è nato con Manuela Orciari che cercando di individuare appunto qual era il tema abbiamo scelto la luna perché ci accomuna tutti quanti basta indagarsi dentro per cercare l'aspetto femminile che ognuno di noi porta così come le donne hanno un forte aspetto maschile molte volte La cosa bella secondo me è di indagare sulla luna e di ricominciare a guardare il cielo e proprio anche per riscoprirsi appunto in un'immensità che in realtà poi trascende proprio il maschile e il femminile in sé e diventa qualcosa di molto più alto e molto più grande ma che ci possano far davvero sognare con i nostri mezzi anche con la nostra fantasia e sì questo E un invito a chi verrà a vedere il vostro spettacolo cosa vi sentite di dire? Venite perché sarà una cosa curiosa e la curiosità Una cosa nuova anche per noi e quindi venite anche per insomma partecipare con noi a questo evento che penso sarà magico lunare 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 sicuramente e torniamo di nuovo ai tre ponti di Fano perché domani sera all'arena BCC andrà in scena il gaff con l'ultima commedia presentata dalla compagnia di Aletano e gli ha intervistati per noi Maria Elena Del Bianco questo da Chicago da Chicago 290.000 un rapporto a me solo da Chicago Chicago ma c'è Polen capisce per 290.000 euro Con piacere ritroviamo anche il gaff che ci presenta uno spettacolo da un titolo che potrebbe suscitare alcune polemiche Il titolo è Cum lagir lagiri manda sempre donne diciamo che trattiamo un argomento vivo un argomento che si presta a molte interpretazioni però abbiamo voluto trattare quelli che sono i luoghi comuni riferiti al genere maschile e a quelli al genere femminile le donne che parlano male degli uomini e viceversa gli uomini delle donne poi chiaramente la trama della commedia si svolgerà con i consueti canoni dei colpi di scena le situazioni paradossali insomma non mancherà niente per trascorrere due ore veramente di resate di divertimento Quanto si divertirà il pubblico da 1 a 10? Io penso 11 anche perché questa è una commedia che abbiamo già proposto quindi siamo abbastanza sicuri del risultato e noi ci siamo divertiti tanto anche il pubblico che ci ha visto quest'inverno al Politeama e quindi per coloro che l'hanno vista che si vogliono nuovamente divertire e per coloro quelli che l'hanno persa non possono mancare venerdì 21 luglio con il GAF che presenta Cum la giri la giri manda sempre le donne Morto c'è da portaviano a bondezza San Pento Cum la giri la giri manda sempre le donne e questa era la nostra ultima notizia subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la seconda puntata di In Salute che vedrà ospiti la dottoressa Rita Emili oncologia dell'ospedale di Urbino ed Elena Barbieri professoressa dell'università degli studi di Urbino Carlo Bo durante il programma si parlerà del progetto MOVIS un percorso di educazione all'attività fisica e nutrizionale per pazienti oncologici con particolare attenzione al carcinoma mammario ed è veramente tutto grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata grazie per la visione